Il tumore del collo dell'utero è la seconda causa di morte per tumori nella donna. È un male che puoi prevenire. Bastano solo 5 minuti per effettuare il pap test nel consultorio a te più vicino. È gratuito, in dolore e può salvarti la vita. Chiama adesso l'800 15 22 33. La prevenzione è un atto d'amore. Grazie a tutti.